L'azienda è in attività dal 1983. Questa piccola prefazione è per spiegarvi che agriturismo.com è nato da un operatore del settore. Nel 1998 ho registrato il dominio e poco dopo mi sono chiesto perché non allargare anche la possibilità di pubblicità ai miei colleghi. Siamo partiti con una, due, tre strutture fino ad arrivare ad oggi con 1300 aziende in tutto il territorio italiano. Agriturismo.com il primo portale sul web. Da 11 anni la migliore guida italiana all'agriturismo bed and breakfast, casa vacanze.